Ciao bandi, oggi vi voglio parlare di un argomento diverso, delicato, strano, particolare, un po' tutto. Oggi è il mercoledì dedicato a capelli ricci, quindi il video è sicuramente su cosa? Su capelli lisci, ma avete detto capelli lisci giusto? Sì, mossi, mesciati, sì, un po' tutto, ma sicuramente non ricci. Rido solo io, lo so. Spesso mi chiedete consigli riguardo ai capelli ricci. Vi do mie esperienze, vi racconto come ho risolto qualche problema, come gestire questa foltissima chioma, eccetera, eccetera. Questa volta invece vi voglio parlare di una cosa appunto diversa, ma non troppo diversa. È un argomento, sono due argomenti che si uniscono, più o meno. Una ragazza qualche mese fa mi ha scritto un commento domandandomi I capelli ricci sono da sfigata? Andiamo a leggere cosa vuol dire sfigato. Chi è sfortunato, giellato, chi ha scarse attrattive o vive ai margini di un gruppo, di una compagnia, godendo quindi di poco credito. Secondo voi, rispondete a questa domanda, i capelli ricci sono da sfigata? O sfigato? Punto interrogativo. A 12-13 anni, lo pensavo? Sì, assolutamente. Lo pensavo, mi sentivo sfigata e gli altri non hanno contribuito a non rendermi sfigata, o almeno a non farmi credere di essere sfigata. Ho fatto un giro di parole incredibili. Mi sentivo sfigata perché mi guardavo intorno e non c'era nessuno col mio tipo di capelli, non c'era nessuno con questi ricci, non c'era nessuno con i ricci. Nessuno, erano tutte lisce, così. Nessuno li aveva come me. Adesso invece, lo penso, secondo me i ricci capelli ricci sono da sfigata? Ovviamente no! Vi racconto una mia sensazione, un cerco di descrivere un momento della mia vita, un momento della mia adolescenza. Diciamo che per me era importante essere in linea con gli altri e questo mi rendeva meno insicura. I capelli sono facili perché alla fine sono diversi, la mia pelle è facile perché è diversa. Infatti vi faccio un altro esempio. Lo zaino. Per me era molto importante avere lo zaino uguale agli altri miei amici. Perché l'idea di avere cose diverse dalla massa un po' mi terrorizzava. Vogliamo parlare di quanto è importante, di quanto peso hanno le parole? Avevano decisamente un altro peso dieci anni fa, io ora ne ho ventiquattro. Dieci anni fa il peso delle parole era completamente diverso. Una parola fuori luogo o una parola che percepivo in un altro modo, quindi a me arrivava negativa, anche se magari non era così tanto negativa, aveva un potere su di me assurdo. Mi portava proprio in un grandissimo sconforto. E ora mi chiedo, ne è valsa la pena? Lo rifarei? Ne è valsa la pena preoccuparmi così tanto di quello che pensavano gli altri? Di cercare di evitare commenti negativi? Ormai ho imparato che nella vita incontriamo un sacco di persone, migliaia di persone. Alcune diranno che ci preferiscono lisce, alcune diranno che ci sono bellissimi, altre diranno che sono da sfigate, oppure che fanno disordine. Altre persone invece non ci vogliono con i capelli legati. Sto parlando con te, Simo, lo so che mi stai ascoltando. Sei tu? Non mi vuoi con i capelli legati? Lo so. Altra invece, qualsiasi altra cosa. Ebbene, è così tanto importante farci influenzare da queste persone? Come possiamo vivere pensando sempre a ciò che pensano gli altri? Preoccuparci sempre di ciò che pensano gli altri? Sarebbe anche un problema, sarebbe sempre un cercare di raggiungere quello che vogliono gli altri. E le persone sono varie, quindi è tutto diverso. Io credo che la cosa migliore sia essere se stessi sempre, pensare a ciò che vogliamo noi e non ciò che vogliono gli altri o ciò che vogliono vedere in noi. Assolutamente no. Spero che vi sia piaciuto questo video, spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Ci tengo tantissimo a questo video e come sempre vi consiglio di adorare i vostri capelli, di prendervi cura di loro. In pacchi, shampoo, qualsiasi cosa, sicuramente questo vi aiuterà a sentirevi meglio con voi stessi. Rispondetemi qui sotto a tutto. Ditemi cosa ne pensate, se siete d'accordo con me o no e cosa direste voi a una persona che ha dei problemi con i propri capelli. Soprattutto durante l'adolescenza. Ad una ragazza di 12, 13, 14 anni. Io vi saluto e mi raccomando iscrivetevi al canale. Mettete un bel mi piace se vi piacciono questi temi, vi piacciono i capelli ricci. Se volete il mercoledì di capelli mettete un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao pandi!